Ciao, sono Safran Khaled, rappresentante della Saudi Mobile Show in Italia. Questo è un evento molto importante per le aziende nel settore della tecnologia e innovazione tecnologica. Ovviamente c'è una forte esigenza nel mercato del mondo arabo, in particolare nell'Arabia Saudita e nei settori della tecnologia e innovazione. Ci sono questi, si lavorava sempre poco fa, tempo fa, sulle smart city, adesso invece ci sono country city, smart country, quindi è diventata cosa non solo smart city ma country smart. Io invito ovviamente tutte le aziende del settore tecnologico di valutare questo evento e di andare a visitarlo perché è una grande opportunità per le aziende e ci sono tanti progetti, visto che ci sono questi grandi progetti tipo la Neom e altro. Per qualsiasi informazione noi siamo sempre a vostra disposizione.